ciao a tutti oggi ricetta rapidissima con soli tre ingredienti zucchine prosciutto cotto scamorza per prima cosa andiamo a tagliare le zucchine non a rondelle in questo caso ci occorreranno lunghe e fine andiamo a tagliare anche la scamorza potete utilizzare anche la mozzarella fresca prendete la pirofila e facciamo un primo strato di zucchine aggiungiamo il prosciutto cotto e infine la scamorza e così via sino all'altezza desiderata mettiamo un filo d'olio inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti il piatto è finito buon appetito